Quando ti chiama con il cognome non è mai un buon segno. Lo sai per quanti minuti un giocatore sta in possesso palla durante la partita? Possesso con la palla. No, due, due e mezzo. E ho detto ragazzi, chiaramente qui si era chiusa una parentesi perché quando perdiamo quella famosa partita 5-0, da lì noi eravamo ripartiti. Questa è l'occasione per dimostrare quanto lavoro abbiamo fatto, quanto crescita abbiamo ottenuto, quanto siete migliorati singolarmente, quanto siamo migliorati collettivamente. Ragazzi hanno un bel cuore, hanno un bello spirito, quindi è stato bello, è stato bello, bello. Gav, quanto troppo ha Milano in? Non credo che sono in troppo troppo troppo. I mean, it depends on how you define trouble. Are they going to get relegated? No. But, you know, before we go and call Pioli a journeyman, Pioli finished third in Serie A with Lazio. I'll remind some people. How about everybody chill a little bit and let this guy work? L'emozione di continuare è un percorso iniziato più di un anno fa e che ha portato comunque Milano a ottenere tanti risultati, non solamente sul campo, ma anche come strategie e anche come idea di futuro. di una squadra che non è vincita per un anno ma che possa durare nel tempo e tornare a competere praticamente sempre con le più forti. Lo so che Paolo sento lo stesso. Step Noire. Step Noire.